Forza! Andiamo, ragazzi! Dobbiamo scaricare le patate! Ho cambiato idea! Non ci voglio andare! Aiuto! Brian... Moriamoci, si parte! Aiutatemi! Attenti! Kelly! Aspettaci! Papà! Ryan! Papà! Non farmi portare via! No! Ryan! Ryan! No! Papà! Salvami! Ryan! Oh, no! Benny, qualcuno deve seguire quel camion. Ricevuto. Chiamami... I piccioni. Io vuole fare dodici! Dirutinato fortunato! Oh, no! Grazie. Oh, a mille più grande perdente di ogni tempo! Che offertaceremo fare per buona fortuna? A vero! Torna in te! È un'emergenza! Oh! Ed? Ben! Io prego a te aspettare venerdì prima che io paga debito di gioco! No, no, no! Sono qui per Ryan! È in una di quelle casse verdi e l'hanno portato via col camion! Lo dobbiamo trovare! Che brutta cosa! Che brutta cosa! Iosa! Iosa! Io dico a lui, tu, picciono matto! Le casse verdi vanno alla grande acqua dove signora con braccio alzato e puntine in testa! Amir! Io non ho capito! Lo vuoro! Dimmi solamente dove vanno le casse verdi. Signora con braccio alzato, puntine in testa! Sì, come dire mia moglie, il camion le porta da signora, da signora! E anche se io odio a dare brutte notizie, c'è ancora brutte notizie da dare! Quando il sole sorgere, le case verdi partono sul nave che babigia! Mai più tornerò! Mi dispiace per questo! Davvero dispiace! Oh! C'è nessuno!